ma voi bimbi la sapete la storia della marvel prima di spiderman e prima dei fantastici quattro che sarebbero quasi i primi supereroi della marvel prima prima della guerra della seconda guerra mondiale nasce così come pulp magazine marvel science stories che contiene non fumetti ma racconti scritti adesso lo apriamo tra l'altro queste sono cose molto rare perché è molto richieste andate questo è è del novembre del 1938 addirittura il numero due qui il secondo numero e sono molto cari vedete questo è un pochino rovinato per cui non costa uno stipendio e poi il numero due perché il numero uno costa molto di più lo sapevate